Avrebbe ottenuto con false attestazioni e la complicità di un tecnico fondi per la ricostruzione della propria abitazione principale gravemente lesionata dal sisma del 6 aprile 2009. Con l'accusa di indebita percezioni di un contributo a post-sisma corrisposto dal comune dell'Aquila, sono finiti sotto inchiesta due aquilani, un privato cittadino e il suo professionista di fiducia. A oltre sette anni del terremoto, i due hanno subito un sequestro preventivo per una somma complessiva di circa 170.000 euro, eseguito dagli uomini del nucleo di polizia ributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, coordinati dal tenente colonnello Sergio Aloia. Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, a cui sono state assegnate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal G per il Tribuna dell'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta dei sostituti procuratori Fabio Picudi e Simonetta Ceccarelli. Gli investigatori avrebbero accertato che con falsa documentazione l'immobile beneficiario della misura di sostegno pubblico era adibito adibitazione principale e stabile mimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale del cittadino all'epoca del sisma si trovava presso un altro indirizzo. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili ai responsabili dei reati accertati. Grazie. Grazie.